Il segnale di vicinanza alle persone perché il servizio dei vigili di prossimità ci permetterà grazie all'assunzione a tempo determinato dei due nuovi agenti di polizia municipale di essere più vicini al cittadino. Gli agenti gireranno per in particolare i centri storici sia di Figline che di Incisa sul capoluogo garantiranno una presenza costante in tutti quegli spazi urbani che sono maggiormente frequentati dalle persone. Questo significa che potranno riferirsi a loro le persone per rappresentare i disagi maggiori che subiscono durante la giornata e soprattutto daranno un'attenzione significativa a tutto il decoro del centro storico. È un elemento cruciale perché proprio in questi giorni soprattutto i temi della Movida attraversano le grandi città ma sono importanti e sono significativi anche purtroppo nei nostri paesi e in alcuni casi si portano dietro anche elementi di disagio importante. Quindi l'obiettivo deve essere quello di lavorare sul decoro e eliminare il degrado dalla città. La presenza durante le ore di urne di due agenti di polizia municipale che gireranno a piedi e che saranno più vicini alle persone è un segnale in questa direzione e noi crediamo che questo possa essere anche un progetto da sperimentare in questo modo e poi rilanciare anche per il futuro.